Ciao ragazzi oggi siamo qui andate vi andate dall'altra parte di me e mi dispiace perché mi dispiace non ho pubblicato video questo qui esce dopo quell'altro non ho pubblicato video per questi tempi perché è successo un problema con l'account mio e quindi non ho potuto pubblicare video blu marrone verde viola blu marrone verde viola sei proprio scemo è questa che clicca blu marrone verde viola oh ma ti stai ferma ragazzi è sempre brutto blu marrone verde viola marrone state quando questa cosa mi deve andare proprio vattene oh oddio blu marrone ma se cosa fa lei cos'è fiera l'ho fatto io ho dovuto farlo io prende il vhs tape mi sa c'è la questa qua di colore ah infatti ok ce l'abbiamo ragazzi questa qua già ci sta rovinando il gioco ti ha fatto perdere 20 minuti soltanto là eh già aspetta prendi la cassetta perché quella qua perché è quella che serve in quella già ce l'abbiamo quei cosi la cassetta però quella verde non serve un cavolo sì invece che serve no non serve su oggi si no serve nella parte quella là delle batterie no fidati di me non serve un cavolo ci ha provato forse eh sì ma ti avevo tanto vedere un filmino cioè sì ma forse è buono no quel filmino ti insegna qualcosa no no su tutti i horror so chi vuoi ti frega lo sape uno grazie per avermi chiuso la porta in faccia prego lo so che sono sempre il migliore hai cliccato i tassi qua io devo ancora cliccare fra non devo scattirare le leve non ho mai capito come si fa mi devi cliccare è però spam cliccare ok faccio l'ultima hai fatto quella bambina no l'ultima c'è ancora fatta io prendo quella al centro allora io do quella a sinistro se mette la ragazzina davanti oh io la sto odiando scusate se stiamo con questa qui bambina ma così l'italiano non lo sa questa raga mi dispiace avrà due anni e già gioca a roblox che lo stavo per dire non capisce che noi siamo più grandi e l'abbiamo già giocata sta mappa oltre di tutto siamo quasi arrivati alla fine non vi preoccupate se non laggarsi a me scusate se vedete un pochino a scatteggiare ma sto laggando ti togli sta bambina oh la sto odiando figlio di me che la sto odiando ma io la voglio morta fai te oh non si può dire in video si invece sai quante volte l'ha detto lion e quindi oltre che non si sponsorizzano quindi non diciamo i nomi mamma mia lion dice i nomi di tutti gli youtuber del mondo lo so chiamo ogni volta metal mafia metal mafia stefano stefane loro pure c'hanno l'account youtube come la mettiamo è vero no però lion li lascia carica i video ma mo smettiamo di parlare dell'icon e parliamo delle cose serie che mo tra pochissimo ragazzi c'è aggie waggie esattamente avete sentito bene tra poco c'è aggie paghi ma sta ragazzina è già messa a rompe ce la voglio e aggie waggie ci mangerà perché non se ne va uscita bambina no non può perché non si sa ma comunque andrea la odia di già fra sta mano non mi va l'hai presa è ma è vero perché si vede tutto bianco a me viene tutto bianco a me ti ho detto fra solo la gara la batteria rossa l'ha presa qualcuno no perché altrimenti sarebbe scomparsa scomparsa scusate se vedete tutto sto lagging secondo me sta ragazzino qua che si ruba tutta la connessione esatto è abbastanza sicuro perché fra se soltanto non laggo così tanto buono messe tutte manca quella verde quella verde ce l'ha la bambina e non sarebbe come metterla non ci credo ragazzi taglio e aspettiamo che la bambina c'è da un clic Marco gliel'ha rubato dalla mano oh ma sta bambina se ne deve andare l'ho presa io cucciolotta piccolino la stava cercata mezzo no io non la metto finchè non esce no la devi mettere fra no voglio che esce allora tagliamo facciamo un taglio corto eccoci non se n'è uscita esattamente ma se pure è buggata speriamo che almeno funziona ma sta laggando a me no sta laggando a tutti no a me soltanto sta laggando la vedo molto liscia oh ma dove ma guarda mo se la ruba la bambina la mano è la prima se l'ha presa infatti a me non me l'ha fatta prendere se ti togli da sopra la fa via da tutti ah vediamo se non mi laggare e faccio a quanto pare che sono un mastro dei campionastri lo sai che ha corso serio con questo cosa fra scopertato tu quello là spara quello là è come il mirino perché devo andare io per primo vabbè tanto mo non c'è aggi guarda se guardo lì spara lì visto è come il mirino scoperta adesso raga ci giochiamo da 20 anni no scherzo ci giochiamo tipo da un mese non te devi baggare non te devi sta fermo bravo bravo si qua non l'avverte è vero qua ragazzi io gioco anche su computer oggi siamo su roblox io gioco su computer adagi wagi aiuto a poppy playtime quindi di solito sono abituato a vederci perché è un computer nuovissimo ragazzi non lo sapete voi tanto nuovo c'è ma c'è qualche giorno però non ammese ragazzi capite il computer più nuovo che ho super funzionamento quindi se non lo metti tu lo metto io se non lo mette quella bimbina ma quella là è scema quindi non credo fra fa tutta la figa che poi se hai visto bene manco sei contento eh mi passa davanti fra ma io rifa il video no si fra facciamo il video fra vado a chiudere il video a chiudere il video